Con oltre un milione e duecentomila immatricolazioni solo nel 2017, con l'onore di essere considerata l'auto più venduta e diffusa al mondo, la Corolla si presenta a Parigi al passo con i tempi, ovvero ibrida, mossa da un motore da 1,8 litri di cilindrata e 136 CV di potenza. La Corolla, che manda ufficialmente in pensione la vecchia Auris, è disponibile anche con carrozzeria hatchback e wagon. Se parliamo di record, spunta anche il nuovo RAV4, che all'attivo porta in dote oltre 8 milioni e mezzo di pezzi venduti in tutto il mondo. A Parigi debutta con l'inedita motorizzazione 2.5 Full Hybrid Electric da 222 CV e trazione a VD. Una faccia diversa e sportiva è quella della Toyota Yaris GR Sport, risultato della collaborazione con il reparto racing. Celebriamo con Yaris i vent'anni. Dopo due decenni e tre generazioni, Yaris nel mese di settembre in Italia è la prima vettura nel segmento più importante del mercato italiano. Questo è un grande successo. L'80% della mix viene realizzata con soluzioni elettrificate e questo è un ulteriore motivo di soddisfazione, perché significa che con la Yaris siamo riusciti anche a democratizzare o a diffondere delle soluzioni elettrificate verso una mobilità sempre più sostenibile. Su sponda Lexus arriva l'anteprima mondiale della nuova Coupé RC 300 Hybrid. Il motore di questa Coupé ibrida elettrificata rimane il 2.5 da 223 CV, ma la vettura si reinventa coniugando comfort e una dinamica di guida ulteriormente migliorata. Parigi vede anche il debutto della settima generazione della nuova Lexus ES Hybrid, berlina di lusso che eredita lo stile e la qualità di LS ed LC.